Bilancio di previsione 2021-2023 Via libera all'assestamento Il Consiglio regionale ha approvato il documento con 19 voti favorevoli e 15 contrari All'oggi ERP, chiesto il parere di ammissibilità Slitta la revisione della legge regionale 2 del 2019 Presentati in aula dalla Lega, oltre 2.000 emendamenti A seguito delle risultanze definitive del rendiconto generale 2020 Con l'assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 I dati indicati in via provvisoria nella legge di bilancio vengono resi definitivi La variazione complessiva nel bilancio di previsione 2021-2023 È infatti di 1 miliardo e 61 milioni di euro come entrata 186 milioni di euro come spesa ed un saldo finale di 875 milioni di euro È arrivata la variazione di bilancio Il Consiglio regionale e le commissioni in pochi giorni hanno dovuto affrontare La più importante misura finanziaria dall'inizio dell'anno ad oggi Una misura che prevede dal punto di vista della spesa Una compartecipazione imponente della regione toscana Il cofinanziamento in vista della nuova programmazione comunitaria Relativa appunto ai fondi FEASR e FSE Si tratta di misure importanti da questo punto di vista Che ci preparano al nuovo ciclo di programmazione Che si affiancano a una serie di interventi puntuali Che cercano di essere la risposta che la regione toscana dà In questo momento dell'anno alla crisi economica e sociale Che è nata dalla pandemia Andando ad intercettare quelle categorie e quei contesti Nei quali è diventato più stringente la necessità di un sostegno pubblico In particolar modo dal settore della cultura alla scuola Fino ad arrivare alle attività economiche e commerciali E anche ai complessi fieristici Si tratta infatti di misure che valgono a dare un sostegno effettivo A coloro che operano in questi settori Dall'altra parte c'è anche però l'esigenza di intervenire Con adeguate misure, con validi strumenti Su un settore altrettanto delicato e strategico del territorio regionale Che è quello della viabilità pubblica Attraverso una serie di misure di sostegno Che vanno ai territori, agli enti locali Soprattutto con misure imponenti Che riguardano il Comune di Firenze, la provincia di Pistoia e Pisa Il bilancio è importante, abbiamo fatto bene a forzare Per approvare entro la pausa estiva il bilancio di previsione E le relative variazioni e defre Era doveroso perché i Comuni aspettano risorse della Regione Le imprese li aspettano, le infrastrutture, l'agricoltura, la montagna Tanti investimenti, penso alla disabilità, penso alla viabilità Penso a tante questioni importanti Il bilancio è la cosa più importante Altre discussioni possono attendere anche dopo l'estate Adesso aver chiesto la candidarizzazione e la versione di bilancio Secondo me è stato positivo E noi sosterremo convintamente questa variazione Che ha trovato risorse importanti in tanti settori Anche richieste che noi avevamo fatto Penso all'agricoltura, penso al sociale Penso ai tartufai, penso alle viabilità A questioni di carattere formativo, scolastico e delle università Il commento io credo che debba essere rivolto Più che alla Commissione a Bugliani e alla Giunta Non è possibile che questo materiale così importante, così delicato Che ha bisogno di un approfondimento sul territorio E anche tecnico Arrivi in fondo e ci si chieda Di essere portato in aula cinque giorni dopo Noi abbiamo vissuto questa settimana Fitta di consigli Avevamo nel consiglio che si è chiuso pochi giorni fa 21 atti all'ordine del giorno Tra proposte di legge e proposte di risoluzioni Quindi ci è stato di fatto impedito Come consiglieri di poter approfondire E quindi fare il nostro lavoro Questo per noi è inaccettabile Abbiamo già chiesto alla Capigruppo Che non si ripeta più Però ovviamente bisogna rimarcare il fatto Che non siamo stati messi in condizione Di svolgere le nostre funzioni Quelle dell'opposizione, quelle dell'approfondimento Quelle anche di poter proporre qualcosa di alternativo Perché per farlo abbiamo bisogno di tempo Il tempo non ci è stato dato E questo è un problema grossissimo di programmazione Che ha questa giunta Speriamo che non si verifichi più Perché credo che una buona maggioranza Funziona anche se c'è un'ottima opposizione E l'opposizione loro non la mettono in grado Di poter lavorare In realtà più che negativa È quasi impossibile da valutare Come nota di aggiornamento Perché ci è arrivato due giorni fa Con la preghiera di licenziarlo Entro la pausa estiva dei lavori Per motivi di massima urgenza E questo ovviamente una volta lo puoi concedere Basta che non diventi prassi Però diciamo che è stato quasi impossibile Capire cosa c'è all'interno di questa nota di aggiornamento Da quel poco che abbiamo visto Parole al vento e anche malfatte Faccio un esempio su tutti L'aspetto sanitario Che insomma non credo che purtroppo sia ancora Un aspetto secondario Né in Toscana né altrove Sulla sanità se uno legge la nota di aggiornamento Al documento economico e finanziario Della regione toscana La nota inizia dicendo Che nei primi mesi del 2021 La Toscana inizierà un piano vaccinale Contro il covid-19 Cioè è aggiornato a un anno fa Quindi questo è quello che ci viene proposto Di votare in aula Su altri aspetti Ci sono considerazioni Veramente superficiali Il sistema della mobilità È demandato tutto Ha un'esaltazione della tranvia fiorentina Come sistema di collegamento Per l'intera area metropolitana Che è una follia È un'infrastruttura Che a Firenze ha canterizzato la città Per undici anni Per collegare ancora oggi Un terzo di città La vogliono proporre Come metodo di collegamento Tra Firenze, Prato e Pistoia Cioè forse nel 2090 Con questi ritmi avremo un sistema di collegamento Quindi un documento che dice poco o niente Che ha quindi Il nostro voto sarà un voto molto politico Un voto contrario molto politico È una votazione assolutamente negativa Guardate lì dentro Dentro il documento economico e finanziario Della regione toscana E nelle due proposte di legge Che parlano della variazione di bilancio Non c'è niente che ci porti a votare a favore Non ci sono misure di sostegno Alle nostre imprese Alle nostre famiglie Non ci sono misure di sviluppo Del nostro territorio Non c'è programmazione Non c'è una visione della regione toscana È una legge mancia Le parole hanno un peso E le leggi devono essere chiamate come sono Ci sono soltanto delle piccole mancettine Ad associazioni culturali Pensate che il 3% di quel documento lì È destinato alla valorizzazione Alla promozione delle associazioni culturali Che per noi la cultura vale Sì è importante Ma vale 5,3 miliardi del PIL Della regione toscana Mentre per le imprese Per il sostegno all'export Per il commercio Per il turismo Per tutte le misure Che riguardano le nostre imprese Che nella nostra regione Il nostro PIL vale 143 miliardi Il 70% è fatto da quel spicchio lì C'è soltanto lo 0,98% delle risorse E allora ci domandiamo Come possono essere aiutate le imprese In un momento così difficile La Toscana Secondo i dati della Banca d'Italia È la prima regione in Italia Ad essere stata duramente colpita Abbiamo perso il 13,8% Del nostro prodotto interno lordo E come si pensa di aiutare le imprese Dando le mancette Ecco noi siamo contrari A questo modo di far politica Non è il modo di Forza Italia Abbiamo sempre pensato Che dobbiamo aiutare le imprese Perché aiutando le imprese Si aiuta i lavoratori e le famiglie Convintamente contrari Perché innanzitutto Ci è stata buttata letteralmente Addosso proprio a breve distanza Dal documento regionale di finanza E da molti altri atti corposi E chiaro che è stato fatto Per non darci la possibilità di analizzarlo Ma in realtà guardandolo Con un occhio un poco più attento Ci siamo accorti che sono soltanto Dei piccoli interventi localistici Probabilmente per esigenze Che ben poco hanno a che vedere Col più ampio respiro Che una variazione di bilancio Dovrebbe avere Per esempio ci aspettavamo di più Per i Pets I programmi educativi zonali Ci aspettavamo più per altri settori Invece ci siamo accorti Che è stata una manovra Semplicemente con altri scopi Ma senza niente di rilievo Addirittura con delle erogazioni ulteriori Straordinarie In realtà ordinarie Perché avvengono ogni anno Alla Fondazione Alinari Al Festival Pucciniano E assolutamente fuori luogo Secondo me in momenti emergenziali Come questo L'adeguamento della legge regionale 2 del 2019 Sull'edilizia residenziale pubblica Slitta alla prima seduta Del Consiglio regionale Del mese di settembre La seduta di venerdì 30 luglio Si è infatti conclusa Con la richiesta Di un parere di ammissibilità Richiesto dal capogruppo Del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli Vista la presenza Di oltre 2000 emendamenti Presentati dal gruppo della Lega Questo ostruzionismo Che la Lega sta praticando Per la modifica della legge 2 La legge toscana Che è una buona legge Che però va modificata Sulla base della sentenza Emessa dalla Corte Costituzionale Che ritiene alcune norme Che prevedono La impossibilità di accesso Alle gradatorie Se non c'è Una permanenza Della residenza In Toscana Così come prevedeva La legge Per più di 5 anni Come norme discriminatorie Noi abbiamo inteso Adeguarci A questa sentenza Della Corte Sentenza tra l'altro Emessa sulla base Di norme vessatorie Che alcune regioni Amministrate dalla Lega Hanno prodotto Sono la Lombardia E l'Abruzzo Ad esempio E anche sulla base Della richiesta Che tutti i sindaci Lanci ce l'ha chiesto Perché i sindaci Hanno bisogno Di pubblicare bandi Per rinnovare Le gradatorie E aspettano Questa modifica Per non fare bandi Che non siano soggetti Ad impugnativa E quindi Ecco perché Avevamo inteso Approvarla In tempi rapidi In più I più danneggiati Saranno i cittadini Le famiglie Che hanno requisiti Per poter fare la domanda Che sono al 90% Tra l'altro Cittadini E italiani Che invece Dovranno aspettare Perché i bandi Saranno fatti Più tardi E' sempre opportuno Approfondire Una legge Che è così importante Che riguarda L'edilizia popolare La casa Per molte persone E' un sogno Per la loro vita Avere un'abitazione Di disponibilità pubblica È importante È un diritto Ma noi dobbiamo Anche tutelare Ovviamente il nostro patrimonio Inserendo anche Dei meccanismi di doveri Da parte delle persone Nella scorsa legislatura E' stata fatta una legge A mio avviso Ottima Rispetto All'attribuzione Degli alloggi popolari Concertata Discussa Arrivata in fondo Si tratta di migliorarla Laddove ci sono Dei rilievi Della Corte Costituzionale E quindi Credo che peraltro Noi sosterremo Il testo Così come è Perché comunque Comprende anche Delle nostre richieste Quello di privilegiare I cittadini toscani Che da più anni Sono residenti Nella nostra regione O che hanno lavorato In maniera Continuativa O anche non continuativa Per almeno 5 anni Con un punteggio aggiuntivo Nel meccanismo Dell'assegnazione Consentendo comunque A tutti di fare domanda Dando un principio importante Mantenendo Un principio solidaristico Importante Cercando di assegnare La casa A chi più ha bisogno Ma nel frattempo Consentire magari Anche la cosiddetta Classe media Di poter accedere E sono quelle persone Che magari anche La crisi ha falcidiato Rispetto alla difficoltà Di conciliare Magari un affitto Con uno stipendio basso O con le casse integrazioni Noi lo giudichiamo opportuno Perché approvare Una legge Che sarebbe stata Un disastro Sul territorio Per noi era sbagliato Certo Se il PD Avesse subito Ascoltato Quello che noi Gli chiedevamo E avesse preso In considerazione I nostri emendamenti Che garantivano L'uguaglianza Di accesso Alle case popolari A tutti i cittadini Che ne facevano richiesta Probabilmente Si sarebbe potuto A votare E ci tengo a dire Che noi eravamo pronti A star lì Fino a ferragosto Per arrivare a una soluzione E' stata sposta Da settembre E io spero Che questo tempo Sia utile Al PD Alla maggioranza Per valutare L'opportunità Che secondo noi Diventa indispensabile Di inserire criteri Che garantiscano Le uguali opportunità A tutti i cittadini Che fanno richieste E che hanno bisogno Però quello che noi Abbiamo letto In questi giorni Sono anche le accuse Da parte del PD Che ci dice Che abbiamo bloccato i bandi Sono bugie I bandi si possono fare La nostra legge È vigente Non è impugnata Non è oggetto di sentenza Quindi tutti i comuni Possono fare i bandi Dirò di più Le graduatorie in essere Possono scorrere Perché ovviamente Finché non ci saranno Le nuove graduatorie Rimangono in essere Quelle vigenti Le case popolari Possono essere assegnate E spero che tutti i sindaci Lo facciano Perché ci sono Molte Troppe persone Che aspettano da anni Se non da decenni Sono sorpreso Della legge regionale Sull'edilizia residenziale Pubblica In regione toscana E sono sorpreso Da due fattori Prevalentemente Il primo è che la sentenza Della Corte Costituzionale Non impugna La legge Della regione toscana Impugna Un'altra legge Noi siamo fermamente Convinti Che occorre Dare le case Agli italiani Cioè a chi sta In questo paese Da più di dieci anni Abbiamo sempre fatto Questa battaglia Nei primi 100 Nei primi 100 in graduatoria Dell'edilizia residenziale pubblica 70 sono Extracomunitari A maggior ragione In un momento difficile Come questo Dove c'è tutta una fascia grigia Che magari prima aveva due stipendi E che oggi se ne ritrova soltanto uno Che magari prima Aveva il sostegno Dei genitori E che oggi invece Quel sostegno Non può più esserci Abbiamo bisogno di dare una risposta A chi ha bisogno di case E poi non c'è Un centesimo Sulla nuova edilizia residenziale pubblica Che è un altro Grandissimo tema Che in questo paese In regione toscana Non viene affrontato Non si costruiscono più case E quello che mi meraviglia di più È che all'interno Del piano nazionale Di resilienza Non c'è un euro Per la costruzione di nuove case Noi fermo Il piano case È l'ultimo piano case fatto Del 1974 Non sono state più costruite case Addirittura I dati ci dicono Che ci sono centinaia Di migliaia di case In toscana Che sono sfitte Che sono vuote O che sono occupate E che i comuni Non se ne riappropriano Per darlo a chi Effettivamente ne ha bisogno La legge andava fatta Perché si tratta di sanare Oltre che una grave ingiustizia sociale Anche qualcosa Che la Corte Costituzionale Ci avrebbe rimarcato Quindi trovo che sia corretta Il fatto di rimandarla Con degli escamotaggi Di emendamenti A settembre Ritarda semplicemente L'azione che i comuni Possono fare al riguardo Quindi questo secondo me Danneggia semplicemente Lo strato più povero E più bisognoso Anche della nostra regione Per dei motivi Che sono fondamentalmente Ideologici E niente più Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti